Nuove idee giovani da Arredamenti Stefani Arredamenti Stefani, bellezza senza età Arredamenti Stefani, per sempre, con tutto il cuore Anni Azzurri è ora presente a Bagnolo in Piano, Reggio Emilia con la nuova struttura Il Giardino in via Borri 5 80 posti letto per anziani autosufficienti e non autosufficienti per soggiorni definitivi o temporanei Una speciale retta di benvenuto, un alto standard alberghiero e un'adeguata assistenza infermieristica e medica saranno la giusta risposta alle vostre esigenze e a quelle dei vostri cari Per informazioni e prenotazioni 0522 95 38 88 Iseiseu Arred 7 e 30 IMU, prestazioni assistenziali Assegno familiare, esenzione ticket Pensa a tutto lui CAF CNA, dà una risposta a tutti Soluzioni esatte, affidabili, efficienti per tutta la famiglia E in più, gli sconti esclusivi di Carta Caff Cap CNA Nel tuo interesse, sicuro La primavera è storia a quattro castella Sabato 26 e domenica 27 maggio Torna il corteo storico matildico 900 comparse figuranti in abiti medievali Spettacolari giochi pirotecnici nella notte al castello Esibizioni di musici e sbandieratori Accampamenti e mercatini medievali Volo mozzafiato dell'Aquila Reale E l'incoronazione di Matilde a Regina d'Italia Con la cantante lirica Elena Rossi Nel ruolo di...